Iscriviti al canale! Allora, boys, eccoci qua, eccoci qua, updates, dvg, update natalizi, natalizi, evviva! Eccoci, allora, update, cioè non sono tantissimi, ma sono molto, molto, molto importanti, quindi ci gustano, ci gustano abbastanza. La patch note uscita è in inglese, chiedetemi come va, in italiano non c'è, non c'è ancora, la metteranno, buh, vabbè. Sono un po', sapete, Blizzard, non ci aspettiamo tanto, già hanno fatto la patch. Che cazzo. Allora, allora, update, update sulle quest, il sacchetto, quello che riprendi in mano, il pezzo, è più difficile da ottenere. Hidden Treasure Vault, Tear Tag, Shafar, sono più facili. Allora, questo è quello dei, perché anche io tengo il gioco in italiano, questo è lo zaffiro, quindi è quello che ricarichi la locanda. E, e baffa i pezzi. Hidden Treasure Vault, sarà quello che ti dà un gold a tu e no? Un gold, poi due gold, poi tre gold? Non ne ho idea, credo di sì. Credo di sì. Poi, Partnering Crime, che è quella dei Buddy. Le lampade, quello delle triple doppie. Wanderous Wisdom Ball, ah, è quella che scegliete a due. Yogg, appaiono molto più frequentemente, appaiono più frequentemente. Fico. Perché sono queste un po' sterane, no? Sono queste particolari e quindi il fatto che appaiono più frequentemente, sono molto contento. Dice, mentre ci approcciamo alla fine della season, vogliamo che ogni giocatore abbia esperienza con le quest più rare, che non hanno mai trovato. O non, insomma, vogliono dire, enjoy. Ci sta, giusto? Giusto, mi piace. Quindi bello. Bello che si trovino di più queste quest, che sono un po' più esotiche. Poi, attenzione, mettiamo subito con la bomba? Voilà. Voilà. A voi. Tossina, Tavanna, sei. Allora, ho sentito dire tante cose. Ho sentito dire, è la fine dei Murlock. No, secondo me no, non è la fine dei Murlock. Però giusto, è assolutamente giusto. Cioè, nel senso, qual è la questione? Adesso ti obbliga ad andare a 5, se vuoi fare i Murlock. Prima tu a 5 ci andavi se non avevi Bran. E questa è la questione. E adesso invece ci devi andare e devi anche triplare i tuoi Murlock, perché poi vuoi veleno. Che lo trovi da lì e poi puoi scegliere tra lui, l'altro, o l'altro pezzo al same Murlock. Che dopo vediamo che ritorna. È un grande cambiamento. È un grande cambiamento e secondo me ci sta. Ci sta assolutamente. Ci voleva perché... Perché va, era troppo facile da trovare sto Tossina. Era decisamente troppo facile da trovare. Non è... Non aveva senso che stesse tra le andacuate. Tutti... Soprattutto poi le partite in cui... C'erano anche i Mac. Tu vedevi una palla di servitori, la prendevi. Sempre. Perché comunque... Tempo, uno, due giri. Uno, due giri. Teovavi, lo scudo di vino e il veleno. Adesso sta cosa non succede. Cioè... Adesso sta cosa non si fa. Ed è giusto così, dai. Giusto metterlo a sei. Non so sette opposti, dopo poco, ma era giusto. Dai, è una mazzata in Murlock. Assolutamente. Poi... Vabbè. Attenzione, ecco. L'altro cambiamento... Cioè, questo è un cambiamento. L'altro cambiamento che è queste due righe qua. Queste due righe qui. Che sono dei cambiamenti però importantissimi. Perché? Via MeccanoTank, che è il PewPew, dei PewPew, dei Mech, e via la 8-5, quella che dà taunt ai minion nemici. Ok? Quindi partiamo da questi. Vabbè, MeccanoTank è una carta tempo e ci sta averla eliminata perché forse è un po' passata. Togliere l'interrogatore Wildman, secondo me tornerà al problema reale. Perché l'interrogatore Wildman distruggeva la build reale. Adesso torna a non esserci un problema... Cioè, non... Secondo me tornerà a esserci il problema reale. Cioè, la build reale rischia di essere imbattibile. imbattibile. Perché non ci sono modi per Counter-Isle. Se non con la 3-7, Barone... Spacchi un po' tutto. Però c'è questo rischio. Cioè, io non avrei tolto l'interrogatore Wildman. Ve lo dico... Secondo me... Era un po'... Cioè, non è... Attenzione. Non è una carta forte. Non lo era. Funzionava solo contro la Builderane, per lo più. Però cacchio... Cioè, tu quando andavi a fare Builderane... Non la potevi fare perché... Cioè, la potevi fare per gli schiavi che a un certo punto... St'affare ti arrivava nella testa. Ora no. Ora se tu fai Builderane e la riesci a fare hai vinto. Presso che... Non mi piace che mi hanno tolto il terrogatore Wildman. Devo dirlo. Poi... Poi... Attenzione che andi ai torni. Perché attenzione che andi ai torni. L'amateona. L'amateona è tornata. Grand carita l'amateona. Grandissima carita l'amateona. Poi... Lovetto. Che filz Lovetto. Torna Lovetto. Wow, mi piace un casino Lovetto che torna... Poi torna Miteax. Terainax per noi. Pazzesco. Secondo me sarà una schifezza Terainax. L'avrei buffato un pochino. Perché sicuramente Terainax è un pezzo debole in realtà. La matteona è quella con... Avenger 3 che ti dà i pezzi combattere che hai in mano. E poi in ultimo, ma non ultimo, torna anche Sifu Slinger che è il Pesciarolo. Il Pesciarolo Tavanna 6 che ti fa un Murlock dorato. Quindi è vero che hanno portato il Topspin a 4, però Pesciarolo dorato è fico. Soprattutto anche con in previsione palla di servitori. Fare dorata la palla ai servitori è un altro bel colpo. Perché dai più 10 più 10 due pezzi. Quindi Sifu Slinger mi piace tantissimo. Tantissimo. Matteona, sapete, sono un fan della prima ora di Matteona. Meccano Egg e Mitex sono due pezzi non forti, ma a cui siamo legati. Quindi sono molto contento anche di queste due enteate. Ecco, di base la patch mi piace molto. Il pericolo è questa eliminazione di Interrogator White Main. Però vedremo poi come andrà a finire. Hociò un'altra cosa importante che può incidere sui bilanciamenti. Un pochino, magari non tanto, ma insomma può incidere. No, non è vero. Stavo pensando che sono aumentati i Minion nel pool. Ok? Perché sono entrati 1, 2, 3, 4 e ne sono usciti 2. Però, in realtà, sono aumentati 2 de-hop a 6. E aumentare il numero di de-hop a 6 non cambia nell'economia del numero di triple che uno fa. No? È più difficile fare triple di pezzi al 6. Ma non è più difficile fare triple di pezzi al 4. Perché è andato via Meccano-Tank e Totsmin a Taverna 4 ed è entrato Uovo e Mateone. A 5 è andata via Wild Main ed è entrato Mitex. Quindi, in realtà, il numero di triple che si fanno durante il game, a parte quelle di Taverna 6, che comunque se ne facevano poche, non cambierà. Questo è. Fine. Fine. Questi sono gli aggiornamenti natalizi. Sì, secondo me, per tutto il periodo natalizio non ne vedremo altri. Non aspettatevi aggiornamenti prima del 15 gennaio. Però sono aggiornamenti che cambiano molto. Quindi sono finalmente contento di un update. Era un qualche mese che non ero contento. Qui sono contento dell'update. Devo dirlo. Quindi, beh, Gigi. E ho finito il video su YouTube. Ciao. Ciao all'editor. Ciao a tutti voi. E iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.